Lino Paci, nuovo presidente del Rotary Club Vestini Penne Loreto, sicuramente tante emozioni. Sì, tante emozioni, soprattutto appunto questa sera perché, come avete visto, abbiamo organizzato questo evento di riconoscimento, di ringraziamento sia ai finanziatori del progetto ospedale Penne Covid, problema Covid, e anche agli operatori sanitari, medici, infermieri, croce rossa, eccetera. Quindi l'emozione è doppia e, come dire, il nostro spirito, proprio l'obiettivo è quello di creare i servizi per il territorio, quindi dove c'è bisogno di aiutare e quello che è successo nei mesi scorsi è stato proprio un esempio lampante e devo dare un bravo proprio alla nostra Cledia Cancelli, presidente appunto passato, che veramente è stata bravissima per organizzare questo progetto e anche altri progetti. Quindi adesso sarà difficile, dobbiamo cercare di continuare in questa ottica a creare appunto questi progetti, a coinvolgere le persone per così migliorare il territorio, quindi la vivibilità in questo territorio. Abbiamo definito un programma, ogni mese abbiamo un evento, almeno a volte anche due, chiaramente non sarà semplice poi fare tutto, però cercheremo chiaramente di sforzarci per realizzare. Alla fine ogni evento quasi sembra la finalità di raccogliere fondi per un progetto, per supportare delle persone che sono più sfortunate, che hanno problemi di salute, eccetera. Quindi speriamo anche quest'anno di andare in questa direzione, sperando che non sia per il Covid, ma che in generale possiamo portare avanti di progetti interessanti per il territorio.